Ci vogliono dei trampoli per guardare meglio le cose, non che le si veda in modo perfetto, però forse aiutandosi con dei trampoli si allarga il filo dell'orizzonte, si vede più spazio. Con dei trampoli particolari uno può anche vedere meglio il tempo. Questo è un libro del tutto originale, è un libro che consta di nove racconti, di nove storie brevi che però non sono slegate tra di loro. C'è un filamento che le unisce, che le collega e è quello che è determinato dalla riflessione sul tempo, dalla riflessione sugli eventi. Il tempo è la nostra vita, noi viviamo perché c'è il tempo, viviamo nel tempo, il tempo ci misura. Sono state innumerevoli le riflessioni sul tempo, dai presocratici, e un presocratico è quello che ha suggerito il titolo ad Antonio per questo suo libro. Ma poi Sant'Agostino e poi correndo così in avanti, ma potremmo pensare nel medioevo, il tempo della chiesa, il tempo del mercante, questa distinzione dei tempi. E poi Petrarca che apre la modernità proprio misurando il tempo, la vita fugge e non si resta un'ora. E correndo proprio, perché non c'è tempo, correndo avanti, vediamo Bergson, Montale, il Montale è il tempo fatto acqua, il nastro dei tempi, il tempo e tempi. Insomma, il tempo è quello che ci invade. E su questa dimensione Antonio ha scritto nove racconti, nove racconti differenti e al tempo stesso fra di loro cuciti. Sono racconti che anche hanno un aggancio con la storia. Sono racconti di carattere esistenziale che però non trascurano quello che è stata la storia. C'è stato un grandissimo studioso che ha detto che il secolo che ormai ci siamo abituati a dire il secolo scorso è stato un secolo breve. Antonio riflette sul secolo breve, ma in realtà misurando su questo secolo breve anche il nostro tempo breve della nostra vita. Ed è un tempo breve tale che gli eventi della storia per davvero risultano scombussolati. Soprattutto spiccano in questi racconti immagini, situazioni, eventi, accadimenti ambientati nell'est dell'Europa. Il muro di Berlino, l'invasione dei carri armati russi del 1956 in Ungheria, eccetera, eccetera. Eventi che, a chi come Antonio e io, come è stato ormai, ha avuto una certa confidenza di anni col tempo, eventi che sembrano lontani, eventi invece che all'interno della dimensione di questi racconti mostrano anche una sorta di scombussolamento in chi ad essi fa riferimento. Per cui, quello che è stato, forse uno dei momenti storici più significativi del secolo scorso, l'apertura dell'Occidente, questo l'Occidente che si allarga, l'Occidente che finalmente diventa un vero Occidente, acquisendo anche tutta una porzione che gli era estranea, ebbene tutto questo viene rivisitato attraverso tutta una serie di componenti che sono la memoria, la nostalgia, nostalgia che può essere anche apparentemente sconcertante, nostalgia addirittura per il muro di Berlino, nostalgia per certe situazioni che sono state drammatiche e per davvero sconcertanti. E questo nasce proprio nella concezione di questo tempo corto che è il tempo della vita. Ci sono stati, dicevo, tanti tempi, ci sono tante misure di tempi, ne ho elencate alcune in precedenza. Stiamo imparando anche dalle cose più recenti che ci sono altre forme di tempi. Abbiamo capito che, per esempio, ci sarà per chi ci governa meno tempo per governare perché deve spendere il suo tempo più per difendersi. C'è questa sorta di tempo, non direbbe, del governo che si vorrebbe facesse scopa su quello della giustizia. C'è anche questa nuova dimensione del tempo. C'è poi, e questo libro lo mette molto chiaramente in evidenza, un tempo che è il tempo della scrittura. Soprattutto l'ultimo racconto, ve lo raccomando, si intitola Controtempo, ma non solo quello, vi raccomando, l'ultimo racconto ci mette anche a mezzo del lavoro di chi scrive e ci dà una originalissima immagine di quello che è il tempo della scrittura. Il tempo che lo scrittore dedica all'invenzione, alla scrittura, alla storia, alla narrazione, con tutta una serie poi di scarti che lascerò a voi individuare. Perché appunto c'è il tempo dello scrittore, il tempo della scrittura e c'è poi l'altro tempo, il tempo che è riservato a noi, fortunati che possiamo leggere il libro e i libri di Tabucchi, che è il tempo della lettura. Ed è un tempo così fortemente gratificante, così straordinario in questa circostanza, che non vorrei fosse sottratto alla vostra attenzione. E io mi fermo qui, proprio pensando come a questo tempo, che è un tempo lungo della scrittura, possa corrispondere a un tempo più breve, più intenso, ma certamente straordinario ed eccezionale, che è il tempo che è riservato a noi, che è il tempo della lettura. E con questo vi ringrazio. Grazie a Luigi Surdic. Antonio se vuoi rivolgere una saluta, dopodiché Antonio Tabucchi sarà pronto per firmare anche il libro. Buongiorno, ringrazio il mio caro amico Luigi Surdic per quello che ha detto. Io non sono qui per parlare del mio libro, perché l'ho già scritto e più che quello non potrei fare, è difficile parlare di quello che si scrive. Se desiderate fare qualche domanda, io sono qui a vostra disposizione molto volentieri per parlare un po', credo che possa essere un incontro anche per una seppur breve conversazione, mi fa molto piacere. Ho sentito con attenzione la soddisfazione, le sottolineature di alcune cose che diceva Luigi Surdic, è vero. In questo libro ci sono anche personaggi che hanno nostalgia di cose del non bello. Normalmente si pensa che la nostalgia possa concernere ciò che ci piacque, ciò che ci fece felici, ma invece può anche essere al negativo, credo. Io ho conosciuto persone che hanno questo tipo, hanno avuto. Molto strano tutto questo. Si può avere anche nostalgia di un muro, insomma, come delle forze dei prigionieri possono avere, coloro che curiosamente possono avere nostalgia di quando erano in prigione. La letteratura serve anche per inoltrarci in questa miniera buia che siamo noi. In questa oscurità di cui siamo fatti, mettendoci una piccola lampadina sulla testa, a tintoni, naturalmente, senza necessariamente pensare di arrivare a una soluzione, credo che per questo fortunatamente la letteratura continua a esistere, perché non si scopre mai niente. Si capisce forse qualcosa di più in questi cunicoli, in queste gallerie buie che sono i nostri animi, sono gli animi di noi umani. Arriva il tempo anche per uno scrittore di cercare di cercare di misurare ciò che è accaduto, non solo a lui ma soprattutto agli altri, perché gli scrittori guardano fuori, insomma, guardano gli altri e soprattutto cercare di formulare gli avvenimenti. Io credo che il narrare, la narrazione, sia una scansione e anche una misura. è una misura, perché raccontare un avvenimento significa poterlo in qualche modo afferrare e afferrandolo lo si misura, altrimenti ciò che avviene è proprio un fiume che ci passa accanto e poi questo fiume in realtà noi siamo attenti alle sponde, come diceva Plotino, ma è un fiume senza sponde, non ha sponde, è solo il fiume. E allora raccontarlo e dargli un po' dei margini, ecco. Intanto il fiume se ne va per conto suo, ma noi abbiamo cercato di dargli una misura. Siamo dei poveri geometri della vita. In questa copertina c'è un, come dire, un tentativo, come diceva, come sottolineava Luigi Surdic. Questo signore, la copertina l'ho scelta io, è un giovane artista svizzero il quale si è costruito dei trampoli che si possono raccorciare, funzionano come un pulsante. Lui se li porta in una borsa e gira per il mondo, ci sale sopra, preme il pulsante e lo fanno salire mezzo metro di più. In questo caso per vedere al di là di una montagna, è un eroismo inutile, è un tentativo. A me non piacciono gli eroismi, ma i tentativi sì. Allora, ritornando al tempo, vede, dopo tutta la sua ricerca, Proust ha terminato con un libro magnifico e in qualche modo trionfale che compensava una vita intera a le rechercher e che si chiama Le temps retrouvé. Lui lo ha ritrovato, lo ha circoscritto, lo ha imprigionato, se così posso dire fra virgolette, in un magnifico quadrilatero di un'opera straordinaria, questi qui vorrebbero farlo, vorrebbero recuperare un tempo anche loro, i miei personaggi, non sto parlando di me. Io ho scritto dei personaggi che nella nostra epoca, in cui forse non è più neanche consentito di recuperare il tempo perduto, neanche memorialmente, perché tutto ci sta confondendo. Viviamo in una sorta di pollo in gelatina, anche temporalmente. Ci sono delle persone che hanno addirittura, in certi paesi, hanno addirittura nostalgia del muro, di quanto stavano peggio. Forse anche noi, tendenzialmente, nei nostri paesi in cui stiamo meglio, arriviamo ad avere la nostalgia del peggio. E' tutto così incerto anche temporalmente. Per esempio, noi avevamo una convenzione, era un patto sociale fortissimo, socio-culturale, che però ci dava una solidità straordinaria da un punto di vista esistenziale. Noi sapevamo che alcuni fatti erano accaduti. E su questa certezza che gli storiografi avevano il compito di registrare, di archiviare, affinché la testimonianza passasse ai nostri posteri, noi avevamo fatto un patto di stabilità. Allorché arriva uno storico pseudo tale, il quale nega che l'avvenimento sia accaduto, l'evento ci sia stato, ecco, le chiedo, se non c'è stato, quando non è avvenuto? Quando non c'è stato? Sostanzialmente questi personaggi sono anche alla ricerca di un tempo che dovrebbe essere il loro. Ma vede, hanno tutti al polso, probabilmente, come lo porto io, un orologio a carica a mano. E a volte si scarica perché uno se lo dimentica di caricarlo. E allora lo deve chiedere a un altro. Dice che ore sono? E quell'altro magari non lo sa. Dice aspetta che lo chieda un altro. Che ore sono? Ma i luoghi ce li portiamo dentro anche. A parte il fatto che quando, a proposito del tempo, quando Einstein ha detto, signori, il tempo lo so cos'è, ecco, ha fatto la sua formula, e il tempo, o perlomeno, diciamo così, la determinazione di esso risulta, appunto, in relazione allo spazio. Altrimenti è come il gatto dello shisha era, insomma, di cui c'era il sorriso ma non c'era più il gatto. Ecco, ci vuole anche il gatto fisico. Poi è arrivato Berton che gli ha detto, no, un momento, ma non è necessario che ci sia uno spazio fuori. Può essere anche uno spazio interno, perché è il tempo della coscienza. Quel libro bellissimo che ha fatto è il tempo della durata. Lui ha fatto queste due distinzioni. Il tempo della coscienza e il tempo della durata. E dunque, tra l'altro, è un libro, non direi polemico nei confronti di Einstein, perché Einstein giustamente si pone dal suo punto di misurazione, che è quello della scienziato. E l'altro si pone da un altro punto di vista. Sono due complementari, che però complicano anche la lettura del tempo. Perché se fosse semplicemente uno, dice, beh, io mi contento di questo, basta. E allora, gli spazi, ma gli spazi sono... Lo spazio è molto importante in relazione, ovviamente, al tempo, ma sarà vero che alcuni spazi possono loro anche mantenere la memoria di noi? Ecco, me lo chiedo. Uno scienziato francese, ve lo ricorderete, molto recentemente, Benveniste si chiamava, come linguista, aggiardò l'ipotesi, era un grande ricercatore, fra l'altro, dell'Istituto di Biologia di Parigi, che l'acqua potesse mantenere memoria di ciò che vi era stato immerso, ecco, anche quando ciò che c'era dentro non ci stava più. Per tutta una serie di teorie che, ovviamente, non vale il caso neanche di sintetizzare. Ebbene, ma l'acqua è un elemento biologico e il resto, ecco, il resto non lo sappiamo, è tutto molto ignoto, però per rispondere alla sua domanda, con un'altra domanda, mi è venuto in mente un verso di Rilke, che credo sia dei sonnetti Orfeo, sì, è sicuramente dei sonnetti Orfeo, è un nostro, è un ritorno, ecco, noi di quel luogo manteniamo una grande memoria, per esempio, e ci è dentro in maniera fortissima e ci causa un'emozione enorme. Poi arriviamo e, ovviamente, forse non ci sono più le cose, il verso, ne dico il verso. È una domanda che il poeta o il personaggio di quel sonnetto si fa. Dice, mi riconosci tu, virgola, aria, tu che una volta conoscevi le cose che furono mie. Grazie.